Continuiamo a parlare di trasporti. L'azienda Tua, l'azienda regionale, ha formalizzato l'avvio dei lavori per rendere più competitivo il trasporto merci da e verso la Val di Sangro. Intervento da 5 milioni di euro nella stazione di Fossa Cesia, Torino di Sangro. Il servizio di Mariano D'Amico. Al via il potenziamento del collegamento ferroviario tra lo stabilimento Sevel, cuore industriale d'Abruzzo, e la linea adriatica. Formalizzato l'avvio dei lavori relativi all'adeguamento della stazione di Fossa Cesia, Torino di Sangro. L'intervento di circa 5 milioni di euro che sarà effettuato dalla società regionale dei trasporti Tua renderà lo scalo più competitivo per il trasporto merci. Il presidente di Tua, Luciano D'Amico. L'obiettivo della società, di Tua, società pubblica, è quello di concorrere allo sviluppo economico della regione. Con i lavori che abbiamo sulla stazione di Fossa Cesia, che ci consente di rispettare pienamente lo standard europeo per i convogli merci, possiamo dire che Fossa Cesia entra in Europa e quindi la Val di Sangro ha uno snodo logistico che le consente di un ingresso a pieno titolo nella rete logistica europea. In questa prima fase i lavori prevedono l'allungamento dei binari, prefigurando in futuro nuovi servizi anche per il trasporto passeggeri. Giovanni Di Vito, consigliere del CDA di Tua, con delega al Ramo Ferro. E' importantissimo quello passeggeri perché consentirà di ridurre il numero di autobus che giornalmente entrano nella zona industriale, questo anche con risvolti positivi dal punto di vista ecologico. Grazie a tutti.